Sono Filippo Binaghi, sono il pianista e ideatore del progetto Wild Piano. Wild Piano vuole stravolgere la canonica ubicazione di un restito al pianistico portando un pianoforte a coda in luoghi più inconsueti e più incontaminati che si possono trovare. Oggi mi trovo qui in Balseriana per trasportare il mio pianoforte per mezzo di elicottero a Rifugio Coca a 2.100-200 metri. Il mio progetto appunto si avvale dell'utilizzo del pianoforte a coda e di una carriola cingolata che mi permette di girare l'Italia e portare appunto il pianoforte da in cima delle colline, a delle spiagge, delle vallate, tutti luoghi incontaminati e comunque inconsueti dove davvero la musica non è mai stata e io posso portare un nuovo messaggio di musica natura per far sì che attraverso la musica le persone si riavvicinano a vivere la natura e tutti i suoi aspetti e anche il contrario. Quest'estate avrò la fortuna di stare sul Monte Bianco, qui in Balseriana con l'elicottero, settimana prossima sarò a Pesaro sulla costa adriatica per un concerto all'alba sulla spiaggia alle 4 del mattino aspettando appunto il sole che sorga dal mare e così via. Per tutta l'estate tra grotte, spiagge, boschi e luoghi davvero unici. Viare mail, fax, telefonate a tutti coloro che si possono occupare di ambiente, di verde e possono così venirmi in conto per collaborare e organizzare un concerto while piano. Ho avuto il favore del signor Fabrizio che è il gestore del Rifugio Coca, il quale leggendo una mia mail, una mia proposta, ha saputo carpire l'eccezionalità del mio concerto e siamo riusciti insieme così a organizzarlo. Tutto il concerto è stato pagato e sponsorizzato dal Rifugio Coca. Grazie. 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 Grazie.